Ciao a tutti e bentornati a Clash of Generals e bentornati all'ultima puntata di questa sfida dedicata al Medioevo. L'ultima puntata, la finale di 32 generali con cui siamo partiti, ne sono rimasti solo due e saranno proprio loro a sfidarsi per il titolo di miglior generale del Medioevo. Siamo usciti un po' in ritardo perché ovviamente dovevamo aspettare i risultati delle semifinali ma ve l'avevamo già annunciato ma adesso abbiamo un compito veramente difficile. Abbiamo noi che dovremmo parlarvi di questi due generali ma soprattutto avrete voi che dovrete decidere tra questi due campionissimi chi votare come il migliore. E per darvi qualche idea su chi, quale piccolo particolare potrebbe farvi propendere per uno o per l'altro, a guidarci nell'oscurità c'è la nostra fiaccola di conoscenza, il nostro dottor Giulio. Grazie di essere qua. Grazie a te per avermi sopportato in queste dure eliminatorie. Oggi sono contento perché la chiudiamo questa storia, quindi sono contento di essere qui. Beh, anch'io, ma lo sai, sarà veramente difficile. Hai visto, sai chi sono i nomi e sai quanto sarà complicato. Due personalità che, insomma, sarà difficile affrontare. Peraltro io se posso fare un piccolo cappello, poi iniziamo. Lo avevo curiosamente già detto nella prima semifinale, poi le cose sono state un po' complicate dal punto di vista dei voti, ma a mio parere in questa finale io ne avrei potuti portare anche tre. Perché, oltre ai due che vedremo, io cito come mio personale terzo in classifica Khalid Ibn Al-Walid, che secondo me avrebbe assolutamente, non avrebbe in nessun modo sfigurato se si fosse trovato a combattere con gli altri due. Non so se sei d'accordo con me. Guarda, io sono d'accordo parzialmente, più che altro perché, senza nulla togliere ovviamente Tamerlano, io ti dico, avrei preferito di più vedere Khalid secondo e Tamerlano terzo. Quindi sei d'accordo che ci sarebbe stato comunque tra questi trasfidarsi? Sì, 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 sicuro, sì, questo sono sicuro, ecco. Invece a giocarsi questa finale non c'è lui, ce ne sono altri due, uno lo hai anticipato, e allora a questo punto partiamo direttamente da lui. Dopo la sigla iniziamo con la scheda di Tamerlano. Tamerlano, il cui vero nome era Timur, e veniva chiamato Timur Ilang, da cui tamerlano che vuol dire letteralmente Timur lo zoppo, perché a tutti gli effetti era zoppo. Era nato nel 1336, nell'attuale Uzbekistan, in un territorio che all'epoca era formalmente sotto il dominio dei Mongoli, ma che in realtà era diviso in un gran numero di tribù che avevano al loro interno dei capi che erano per metà Mongoli e per metà Turchi, quindi si erano mischiati tra le popolazioni. E la stessa cosa ovviamente era anche per il nostro Timur, il quale era figlio di un capo tribù e faceva discendere i suoi avi addirittura fino a Gengis Khan, cosa che racconterà per tutta la vita, che sarà uno dei capisaldi del suo potere. Inizierà a comandare, come tradizione nei popoli Mongoli, comandare degli eserciti sempre più grandi fin da giovanissimo, fin da quando aveva solamente 16 anni, quando gli vennero affidate le sue prime truppe. E fin da giovanissimo si dimostrò un comandante molto capace, perché in un periodo di anarchia nella zona della Transoxariana, dove viveva, di cui facevano parte i domini di suo padre, di quel periodo di anarchia ne approfittò il vicino Canato Chagatai, che cercò l'invasione. A differenza di molti altri capi che si ritirarono, le truppe di Timur invece combatterono quell'invasione. Questo lo rese molto forte, dal punto di vista politico, agli occhi dei suoi signori Mongoli. Una volta respinta l'invasione, però, Timur iniziò a pensare che, dopo tutto, quel dominio Mongolo non era dovuto, e che anzi i popoli misti, i turchi Mongoli, avrebbero dovuto liberarsi dal loro dominio combattendo. Nel 1363, quindi divenuto capo di tutte le tribù, mosse guerra contro i Mongoli. In appena due anni di guerra riuscì a scacciarli, conquistando così al suo dominio tutta la Transoxariana. Nei trent'anni successivi condusse personalmente le sue truppe in una lunga serie di campagne che gli permisero di conquistare tutti i territori mongoli in quello che è l'attuale Iran, il cui dominio si era progressivamente sfaldato e diviso in tutta una lunga serie di emirati e sultanati. In questi anni condusse anche una lunghissima guerra, lunga 13 anni, contro il canato dell'ordadoro, cioè quel grande canato che controllava grossomodo i territori russi e aveva tributari anche nella zona est dell'Europa. La guerra fu molto lunga, anche perché molto spesso era l'ordadoro ad invadere i territori di Timur solo per venirne ricacciata, senza che Timur però potesse condurre una vera e propria campagna in un territorio così lontano. Alla fine però nel 1395 quella campagna ci fu, e dopo aver sconfitto le forze dell'orda nella battaglia di Terec, nella zona del Caucaso, grazie anche al tradimento di alcune tribù che passarono con lui, Tamerlano riuscì a sconquistare tutti i territori dell'orda, devastarli per poi lasciarli in gestione ai suoi generali e tornare in Iran con un bottino semplicemente ricchissimo. Durante tutte queste campagne, Tamerlano dimostrò qual era la sua tattica, la distruzione e la terra bruciata. Le città che si arrendevano venivano risparmiate e sottoposte a tassazione, le città che osavano resistere venivano semplicemente rase completamente al suolo, lo stesso destino che subì ad esempio la città di Sarai, che era la meravigliosa capitale dell'orda d'oro e che praticamente scomparve dalla storia. Le città venivano raso al suolo, i cittadini presi come schiavi o molto più spesso uccisi e per incutere il terrore venivano create delle vere e proprie cataste di teschi umani, cosa che ci fanno veramente pensare a Tamerlano come uno delle più grandi portatori di distruzione mai comparsi nel mondo. Grazie a quel bottino accumulato, Tamerlano, che ormai si considerava essere l'erede di Gengis Khan, decise di lanciarsi laddove neanche Gengis Khan era riuscito, cioè nella conquista dell'India. Nel 1398, sfruttando il fatto che il sultano di Delhi, che formalmente era islamico ma era molto aperto dal punto di vista religioso con gli hindù, che dopo tutto costituivano un'importante presenza all'interno del suo sultanato, sfruttando proprio questa libertà concessa, Tamerlano decise di invaderlo. Nella campagna contro l'India, che durò all'incirca un anno, e che lo portò a conquistare tutta l'India del nord, per la prima volta Tamerlano si trovò a scontrarsi nella battaglia di Delhi, la capitale, contro gli elefanti da guerra. Per affrontarli, nonostante non li avesse mai visti, decise di usare una tattica molto intelligente. Scavò un grande fossato per rallentarli, prese dei cammelli dei dromedari, pose su di loro delle fascine infuocate, e poi gli diede fuoco, scatenando i dromedari impazziti dal dolore, dal fatto di portare del fuoco con sé, verso gli elefanti, che in questo modo si spaventarono, travolsero indietro l'esercito di Delhi, facendo così vincere la battaglia a Tamerlano. Anche Delhi subì il destino di tutte le altre città, venendo razziata, distrutta, e ci mise più di un secolo per riprendersi da quella distruzione. È impressionante però vedere con quanta rapidità si muovesse tra i suoi domini. Se nel 1398 aveva conquistato l'India, nel 1399 lo troviamo dalla parte opposta ad occidente a combattere per la conquista dell'Evante. Conquisterà la Siria, scenderà verso la Giudea, e poi si spingerà a Bagdad, conquistando due delle più grandi città di tutto l'Islam, appunto Damasco e Bagdad. Entrambe le città verranno sottoposte a razzia come tutte le altre. Una delle campagne però per cui è più famosa e che avrebbe forse potuto cambiare la storia fu la campagna anatolica. Dopo una lunga serie di schermaglie con il sultano ottomano Bayezid, che in quegli anni si stava preparando a conquistare Costantinopoli, probabilmente l'avrebbe conquistata di lì a poco, infatti Tamerlano decise di invadere l'Anatolia. Mosse in maniera magistrale 140.000 uomini attraverso l'Anatolia, tanto da riuscire a ingannare Bayezid, facendolo avanzare, allontanare dalle fonti d'acqua per poi circondarlo e costringerlo allo scontro. Uno scontro nella battaglia di Ancara che vide ancora una volta vincitore Tamerlano che grazie a quella vittoria riuscì a spingersi addirittura fino al mare Egeo, mettendo praticamente in crisi e facendo quasi completamente crollare l'impero ottomano, che ci metterà molti anni a riprendersi, e facendo sopravvivere Costantinopoli ancora fino al 1453. A questo punto, conquistato un impero semplicemente enorme, decise che per essere veramente Gengis Khan gli mancava una cosa sola, la Cina, la Cina laddove i Ming erano riusciti a scacciare gli ultimi discendenti di Kubilai Khan e di Gengis Khan. Per questo nel 1405, nonostante l'età molto avanzata, decise di guidare personalmente le sue truppe in quest'ultima campagna. L'idea era di attraversare l'Asia centrale in inverno, nonostante le pessime condizioni, per arrivare in Cile in primavera e poterla così conquistare. Purtroppo per lui l'inverno si rivelò troppo rigido, forse l'età troppo avanzata, durante la lunga traversata si ammalò probabilmente di polmonite e riportato verso Samarkand, morì prima di poterla vedere. Poi ci torneremo sopra dopo, perché io poi credo che volerne parlare di quanto, secondo me, questi due comandanti siano simili. Se ci pensi, una delle cose che li caratterizza forse maggiormente rispetto ad altri generali che abbiamo affrontato in questa sfida è il fatto di aver combattuto su uno spazio immenso, di essersi trovati a dover gestire situazioni molto diverse, ad essersi trovati ad affrontare pericoli molto diversi e non solo di essersela scampata, ma anche di essersela scampata al meglio. Quindi se vogliamo fare un piccolo paragone, è un po' come paragonare una persona che normalmente sta semplicemente solo nella sua casa, nel suo circondario, e chi invece magari viaggia per il mondo, si trova in varie situazioni diverse e magari ha bisogno di un po' di protezione. E la protezione, che come ne stiamo parlando spesso, può dare ad esempio una VPN come NordVPN, che anche quando siete fuori di casa, vi può proteggere. Può proteggere il cellulare, può proteggere l'iPad, tutto questo peraltro con un unico account, ma soprattutto che poi siete in casa o che siate fuori, vi può permettere di proteggere la vostra privacy, che insomma, un buon generale lo sa, che una delle cose più importanti è proteggere i propri piani. Noi magari non dovremmo conquistare il mondo, ma se proteggiamo il modo in cui viaggiamo su internet, e lo facciamo al meglio utilizzando i server di NordVPN, beh, questo sicuramente può aiutarci. Poi, lo diciamo sempre, lo diciamo ancora per questa volta, se volete provare NordVPN per un mese gratis, trovate in descrizione il link, lo provate, se poi non vi piace vi restituiscono i soldi, quindi almeno potete vedere che quello che abbiamo raccontato in queste puntate è assolutamente vero. Tamerlano di pericoli ne ha scampati tanti, eh. Io devo essere sincero, poi, ripeto, ci tornerò dopo, però vedo in Tamerlano e su B-Day due figure in qualche modo molto parallele. Dal punto di vista di Tamerlano abbiamo un uomo che, sappiamo, ha iniziato, vabbè, non è il Guiscardo che ha iniziato letteralmente comandando dei piccoli gruppi quasi di briganti, però sappiamo che i suoi primi comandi erano di gruppi molto molto piccoli, e alla fine si è trovato a comandare degli eserciti immensi. Ha comandato eserciti sbandati all'inizio, prendendo nel controllo per guidare delle ritirate, ha guidato delle campagne di conquista colossali, e tutto questo lo ha fatto, peraltro, mentre era anche impegnato a essere un sovrano, quindi aveva anche qualche compito in più. Io, francamente, faccio fatica a trovare dei punti deboli in Tamerlano, che poi è quello che dobbiamo fare oggi, perché dire i punti di forza di questi generali è difficile, bisogna trovare forse qualche piccolo punto debole su cui andare a giocare. Tu mi chiedi di trovare dei punti deboli, però il problema è che su questi due generali di punti deboli, cioè io sinceramente ho molta difficoltà a trovarne. Cioè io più che altro posso darti una opinione non tanto che non va a indicare proprio un punto debole vero e proprio, al massimo una critica che faccio a Tamerlano, però c'è nel senso una critica che fa un signor nessuno, ha comunque uno che ha conquistato praticamente mezza Asia. e il fatto che ha voluto tutto ma alla fine non è riuscito a consolidare gran parte delle sue conquiste. Poi ovvio c'è nel senso l'impero Timuride, è sopravvissuto ancora un po', è andato avanti, si è evoluto, ha prodotto anche altri imperi, però alla fine l'enorme estensione che Tamerlano effettivamente aveva ottenuto con le sue campagne non è stata conservata da quel punto di vista, quindi al massimo e questa è una critica che lì si può fare ma nel senso è molto simile alle conquiste dei mongoli, alle conquiste dei grandi popoli della steppa, sono quelle conquiste enormi in poco tempo che però è ovvio che quando muore il motore propulsore di questi imperi se non vi è dietro un'organizzazione statale salda, cosa che nell'impero mongolo ci fu più o meno che mantenne per un certo periodo di tempo ma comunque vi era una difficoltà diciamo di gestione questi imperi si restringono, si contraggono ed è ovvio che succeda, quindi cioè nel senso più che un punto debole secondo me è più che altro il fatto che ha voluto conquistare tutto, ha voluto fare tutto lui tra virgolette, non ha lasciato degli eredi diciamo più capaci o comunque abili o comunque forti quanto lui mettiamola così e che quindi è il risultato più che altro però io non sto parlando di lui in prima persona quanto del risultato che ha lasciato quindi ti dico è una mia opinione ma altri potrebbero dire no ma in realtà è quello è il massimo che poteva fare e più di questo non si poteva e lì ti direi hai ragione è il massimo quello che riesco a dire sì se vogliamo forse l'unico suo difetto è quello di aver creduto a un sogno che non esisteva cioè lui forse o meno così sembrano dire gli autori che ne parlano credeva a quest'idea di riunificare un impero mongolo che andasse veramente dall'Europa fino alla Mongolia Cina compresa che in realtà praticamente non è mai esistito nel senso che appena è nato quell'impero si è poi frantumato in domini e orde diverse quindi era quasi un'idea irraggiungibile perché in realtà non vi era praticamente mai mai stato bisogna poi dire che ha conquistato addirittura territori che i mongoli non avevano conquistato come il nord dell'India ha veramente combattuto battaglie in qualunque condizione forse se posso dire una cosa in più rispetto a quelle che erano le invasioni mongole prima di lui ecco forse se i mongoli si erano trovati ad arrivare quasi con una come una novità tra virgolette con questa loro macchina da guerra incredibile che erano riusciti a mettere in piedi lui da una parte è vero che questa macchina da guerra se la trova già pronta anche se non è proprio vero così però dall'altra parte è anche vero che si trova a combattere contro popoli che in qualche modo iniziavano a conoscere come combattevano i mongoli eppure non riescono a fermarlo neanche in questo caso cioè come si dice in questi casi è stato fermato solo dalla morte solo dall'età dal freddo e dalla malsana idea di attaccare la Cina in pieno inverno se no chissà che cosa avrebbe potuto fare insomma e la cosa curiosa è che un po' come l'altro generale con cui si scontrerà viene in qualche modo cancellato dal nostro immaginario dalla figura di Gengis Khan perché diciamo Tamerlano è un altro che almeno in occidente è quasi sconosciuto se ne parla pochissimo nonostante tutte le sue conquiste sì no devo dire che allora in realtà concordo anche in questo caso però parzialmente perché secondo me comunque come dire Tamerlano è rimasto in un certo senso legato all'immaginario europeo più che altro nella sua funzione antiottomana cioè in quello che ha fatto contro gli ottomani che è stato veramente forse uno dei pochi momenti in cui gli ottomani sembravano in procinto di estinguersi praticamente con Tamerlano e Tamerlano anche un po' nell'arte nel dramma è rimasto più che altro dell'Italia parlo poi secondo me anche merito anche di YouTube dei divulgatori su YouTube è forse anche è ritornato un po' alla ribalta sia mediante divulgazione ma anche attraverso anche i videogiochi cioè alla fine i timuridi sono un po' tornati io mi ricordo su su Medieval 2 che i timuridi erano quell'orda fortissima che arrivava dopo i mongoli e che avevano addirittura gli elefanti corazzati ma è ok che era una cosa assurda però secondo me Tamerlano un po' forse rimane mediante queste vie traverse un po' strane anche alle volte un po' fantasiose che non è del tutto sconosciuto secondo me paga molto di più il suo sfidante da quel punto di vista perché Tamerlano un minimo riesce a discostarsi almeno da Gengis Khan se ne rimane completamente cancellato se posso fare poi un'associazione con un personaggio invece di un libro io ho sempre trovato che un po' anche se non è l'unica ispirazione un po' nel personaggio del Mulo nel ciclo della fondazione ci si è anche un po' Tamerlano il Mulo era Gobbo Tamerlano era Zoppo e quindi qualcosina un po' io ce lo vedo un briciolino anche se non è l'ispirazione è interessante io io c'ho io c'ho sempre visto molti personaggi però può essere un'associazione interessante così effettivamente comunque lo hai annunciato ma lo sapevate benissimo perché avete visto il risultato delle votazioni che è uscito pochissimo tempo fa lo sfidante di Tamerlano e non ci allontaniamo molto né come tempo né come zona né come tipo di combattente e il generale dell'armata mongola ai tempi di Gengis Khan cioè Subotai Subedei Subodai ce ne sono tante versioni ma ormai avete capito di chi stiamo parlando scheda Subotai o Subedei ci sono due versioni del nome nato nel 1176 in Mongolia se Gengis Khan è considerato la mente della nascita del grande impero mongolo lui sicuramente ne fu il braccio nato da una famiglia di umili origini il padre era infatti un fabbro fin da giovanissimo si legò a Gengis Khan e già a vent'anni secondo quanto si racconta guidava quattro bande di uomini in razzie e conquiste per conto del suo signore tra cui anche la cattura di alcune città nel nord della Cina fin dall'inizio dimostrò delle doti fuori dal comune era in grado di gestire molto rapidamente le truppe sul campo di battaglia di addestrarle al meglio gestire anche eserciti diversi che si muovevano in spazi molto ampi in un'epoca in cui ovviamente non c'era la radio e tutti i collegamenti dovevano avvenire via terra ma soprattutto si dimostrò fin da giovanissimo molto molto abile nell'imparare dai suoi avversari come ad esempio nell'uso delle armi da guerra utilizzate dai cinesi che lui addestrò proprio nel suo esercito utilizzate per gli assedi che trasformeranno un esercito mongolo che fino a quel momento non era stato in grado di catturare grandi città fortificate in un esercito invece temibile anche sotto questo aspetto nel 1217 condusse la sua prima campagna fuori dalla Mongolia contro l'impero Kipchak un territorio che occupava una parte centrale in Asia che sarà aggredito dalle sue forze un esercito di circa 20.000 uomini con cui piomberà rapidamente sulle forze nemiche prima che potessero organizzarne catturandone il sovrano e in questo modo annettendo tutto il territorio durante questa campagna le sue forze saranno però aggredite da un esercito guidato dall'impero Corasmio impero vicino molto più grande rispetto a quello Kipchak che aveva pensato di approfittare della situazione ma le cui forze 60-80.000 uomini quindi 3-4 volte quelle mongole saranno fermate proprio da Subotai che in una durissima giornata di battaglia infliggerà loro perdite talmente gravi da costringere a ritirarsi permettendo così ai mongoli di tornare indisturbati in patria due anni dopo Subotai però ritornò questa volta al comando di 100.000 uomini divisi in tre eserciti attaccò l'impero Corasmio da più parti catturandone le città e molto rapidamente portandolo al collasso e quindi alla conquista inglobandolo nei territori della Mongolia da qui guidò personalmente anche per scoprire che cosa vi fosse più ad occidente una razzia in cui 20.000 uomini da lui guidati attraversarono tutti i territori intorno al Mar Caspio portando distruzione laddove passavano sconfiggendo eserciti persiani eserciti in Azerbaijan eserciti in Georgia e poi arrivando nella parte meridionale dei territori dei Rus dove proprio le varie popolazioni russe si unirono a quelle della steppa per creare un esercito che con 80.000 uomini li avrebbe dovuto fermare le cose non andarono così ancora una volta Subotai dimostrò la sua superiorità attirò le forze nemiche in una trappola e le sconfisse sanguinosamente tornato in patria le cose progressivamente iniziarono a cambiare anche fisicamente era diventato molto grosso e questo lo costringerà ad allontanarsi parzialmente dal campo di battaglia sempre però accompagnando le sue forze di cui preparava meticolosi piani di battaglia per poi farsi portare su delle alture nelle vicinanze del campo di battaglia da cui osservare la battaglia come si svolgeva e guidare le sue truppe con un ingegnosissimo sistema di bandierine che permetteva di dirigerle in maniera possiamo dire molto molto moderna nel 1231 sarà incaricato di guidare la campagna di conquista contro i territori della cina settentrionale contro l'impero Jin impero che fino a quel momento grazie alle sue fortezze aveva respinto ogni tentativo di invasione da parte mongola inutile dire che ancora una volta la sua superiorità fu evidente in pochissimi mesi riuscì infatti a travolgere le difese dei Jin muovendo ancora una volta le sue armate quasi come potesse vederle da un satellite conquistando le varie fortezze a una velocità che nessun cinese si poteva aspettare e costringendo l'impero alla resa addirittura sconfinando nelle sue razzie nel molto più ricco impero Song che controllava invece la parte meridionale della Cina da qui ottenne dal nuovo Khan o Godei che era succeduto a Gengis Khan e che gli aveva ovviamente rinnovato la sua fiducia il permesso di condurre una campagna in occidente una campagna che avrebbe dovuto si espandere l'impero mongolo ma in cui avrebbe dovuto anche addestrare una nuova leva di generali di principi che in effetti lo seguirono e saranno ai suoi ordini per impararne i segreti della guerra giunto nei territori russe ancora una volta farà quello che vuole i suoi avversari non riusciranno ad organizzarsi non riusciranno a creare come avevano fatto qualche anno prima un esercito per contrastarlo ma verranno sconfitti ognuno separatamente con i mongoli che combattendo nel pieno dell'inverno piomberanno sui loro eserciti annientandoli talvolta manovrando per circondarli prima che questi possano ovviamente attaccarli addirittura a volte muovendosi talmente velocemente da anticipare l'esercito superarlo per andare a catturare la città come è successo ad esempio a Vladimir per poi farla arrendere Mosca venne catturata Vladimir Suzzal Kiev tutte caddero sotto le armi dei mongoli solo Novgorod accettò di pagare un tributo piuttosto che farsi conquistare a questo punto decise di lanciare la sua ultima grande campagna verso occidente saputo che ad occidente dei russi vi erano delle terre molto ricche le terre dei polacchi dei bohemi soprattutto degli ungheresi decise di lanciare una gigantesca campagna da lui coordinata in cui divise le sue forze in cinque grandi eserciti la parte minore di questi eserciti venne diretto verso la Polonia che in effetti si era alleata con l'Ungheria per cercare di fermare l'avanzata di questi demoni come venivano chiamati provenienti da Oriente e riusciranno a sconfiggere esattamente come previsto da Subotai le forze polacche nella battaglia di Legnica il giorno successivo il giorno successivo vedetevi conto di quanto vi fosse della precisione Subotai stesso guidò le sue truppe nella vittoria nella battaglia di Moax distante centinaia di chilometri rispetto al luogo della battaglia di Legnica questo per indicare la perfezione dei movimenti battaglia di Moax che ancora una volta vide le forze mongole vincitrici mongoli che da quel momento sciameranno in Ungheria conquistando una piazza forte dopo l'altra e soprattutto razziando il territorio pur con iniziali difficoltà proprio nel prendere le cittadelle più fortificate soprattutto nella zona della Croazia da qui secondo quanto si racconta stava progettando una nuova campagna di invasione diretta verso il Sacro Romano Impero verso la Germania dove tutti già temevano l'arrivo di questi invasori da Oriente a questo punto però le cose cambiarono la morte di Ogodei spinse infatti i mongoli a tornare indietro e quella fu l'ultima vera campagna di Subotai che tornato in patria si incaricò di organizzare la futura campagna di conquista dell'impero Song in Cina ma non di portarla a termine perché morirà a 71 anni compianto da tutti per il suo genio militare anche qua ma seriamente ma come gli trovi un punto debole a uno così? come glielo trovi un punto debole a uno così? guarda io ci ho ragionato per entrambi e se per l'altro forse il punto debole poteva essere questo ideale poi un po' irrealistico forse nel suo caso il punto debole potrebbe essere quello che in effetti in alcune battaglie ha avuto perdite molto grandi poi le ha vinte lo stesso poi le ha vinte lo stesso ha vinto la guerra ha conquistato è andato dovunque però c'è da dire che in effetti in alcune battaglie ha avuto perdite abbastanza grandi talvolta palesemente quasi volute nel senso che talvolta ha usato i suoi uomini per attirare in trappo gli eserciti molto più grandi e annientarli talvolta probabilmente un po' meno però comunque la battaglia le ha vinte lo stesso gli eserciti hanno continuato a combattere ha fatto campagne lunghissime che ovviamente è un generale che perde tutto il suo esercito non può condurre quindi anche lì stiamo parlando di una macchiolina di una minuzia è incredibile non so cosa dire veramente niente in realtà cioè nel senso è un po' è un po' difficile andare a trovare lati negativi in un uomo che praticamente ha sempre vinto vabbè a parte quelle battaglie dove ha subito delle perdite poi quella storia della mezza sconfitta in Cina ma che in realtà se la mettiamo se dovremmo proprio descriverla per bene non è proprio una sconfitta è più una richirata perché le operazioni non erano state neanche pianificate bene e Subodai non era neanche in generale in capo in quel momento quindi vabbè è ancora più difficile rispetto a Tamerlano più che altro perché Subodai non aveva neanche questa ambizione tra virgolette cioè nel senso lui ubidiva gli ordini era il generale guidava le armate del Gran Khan ovvio si poi prende le sue ambizioni di conquistare il più possibile per portare gloria a se stesso e ovviamente al suo signore ce n'era però anche qui come dici tu dove si va a parare io anche qui non gli si può dar colpa di nulla e non gli si può inficiare alcuna sconfitta praticamente ciò che rimane è la descrizione di un uomo che ha dedicato la sua vita all'arte della guerra che l'ha incarnata anche diciamo abbastanza a pieno perché non è non fu non è stato stato un grande guerriero lui in prima persona è stato anche un grande stratega un maestro della logistica un innovatore uno che è riuscito a diciamo acquisire il meglio dei popoli sconfitti e a integrarlo nelle sue armate cioè è un personaggio tutto tondo non è stato un sovrano quindi non dobbiamo andare a giudicare le sue scelte politiche perché non ne dovete prendere però anche qui forse non lo sappiamo e quello che rimane è forse uno dei più grandi generali sicuramente della sua epoca ma di tutto l'evo antico credo come chilometraggio puro se escludiamo ovviamente gli ultimi cent'anni dove magari in generale si trova a combattere in luoghi diversi come chilometraggio puro di conquiste credo sia imbattibile cioè pensare a una persona che parte dalla Mongolia e si spinge fino in Ungheria è qualcosa di di allucinante cioè non mi viene veramente in mente nessuno di così forse ecco una cosa però anche lì è una questione solo di fonti non sappiamo molto dei suoi primi comandi quando come si è comportato nel comandare magari piccoli gruppi ma è ovvio che si sia comportato bene perché altrimenti in un popolo che basava tutto sulla forza sul comando difficilmente si sarebbe trovato a comandare un esercito mongolo agli ordini di Gengis Khan se non avesse già dato delle prove straordinarie prima quindi anche lì cioè è solamente una questione di fonti cioè del fatto che di fonti che parlano della giovinezza di Tamerlano ce ne sono di fonti che parlano della giovinezza di Subedei che non siano la storia segreta dei mongoli che fa qualche accendo ma anche lì ho preso magari un po' con le pinze sostanzialmente non ce ne sono ma è una questione di quello quindi è veramente strepitoso tutto quello che hai detto tu è assolutamente correttissimo io devo essere sincero a me la cosa che colpisce di più e lo vorrei aggiungere perché forse le altre volte non ho parlato tanto è anche la sua incredibile capacità di trarre informazioni sul terreno su cui si sarebbero trovati a combattere perché se ci pensi le sue campagne sono sempre preparate in maniera molto meticolosa perché non è un rullo compressore che va avanti e distrugge sono eserciti che si muovono con manovre complicate convergono nei punti chiave del nemico si separano per attaccare il nemico in punti diversi tutto questo non lo fai perché ti svegli una mattina e dici tu vai 100 km in là che forse c'è una città lo fai anche se sei riuscito a creare un sistema per cui tu arrivi in un territorio nemico e già sai come muoverti cioè le armate mongole che si muovono verso l'Ungheria da una parte verso la Polonia Bohemia dall'altra sanno dove stanno andando perché prima c'è stata tutta una raccolta di informazioni insomma e anche qua è qualcosa di spettacolare assolutamente assolutamente spettacolare adesso arriva la domanda adesso arriva la domanda chi voti chi voti chi voti perché dovevo decidere perché io sotto quello veloce chiedo io sotto quello veloce chiedo guarda che altrimenti taglio il video e faccio comunque apparire prima la tua della mia immaginavo ma come il solito qua non si può non si può fare nulla io ti dico a parità di personaggio voto su Bodei perché non si può non votare lui secondo me questo è il problema e mi dispese per Tamerlano l'avrei votato ma se dovessi decidere tra tra un altro personaggio probabilmente e non su Bodei probabilmente avrei votato Tamerlano poi se ci fosse stato Khalid vabbè e lì c'è poco da fare Khalid era il mio jolly in realtà da un certo punto di vista quindi scopro gli altarini per me Khalid era l'avrei portato fino alla finale e l'avrei votato in finale probabilmente per poi perdere ma almeno l'avrei votato in questo caso non posso votare Tamerlano mi dispiace allora io avevo già detto quando si erano fatti i sedicesimi che il mio candidato era su Bodei quindi lo sapete l'ho praticamente dichiarato a metà serie quindi è difficile pensare che io possa ti fatico perché è qui ma insomma penso sia qui perché è partito dalla Mongolia è andato in Ungheria si è fatto un Mongol Rally antelitteram praticamente anche lui non fosse invecchiato probabilmente a Londra dove parte il vero Mongol Rally ci arrivava sul serio in qualche modo trovava anche il modo di farsi delle navi arrivarci sono sicuro cioè un uomo che fosse campato 150 anni secondo me riusciva a conquistare anche l'impero azteco cioè un modo lo trovava di arrivarci vabbè ad ogni modo a parte questo quindi di base teoricamente il mio voto potrebbe andare a quello ma ad essere sincero io non voto perché quel mio voto nasceva un po' dall'ignoranza lo dico senza vergogna cioè io il personaggio di Tamerlano lo conoscevo ma solo a sommi capi andandolo a studiare un po' di più per questa serie e ogni volta approfondendolo di più perché poi ogni volta bisogna trovare lo dico senza vergogna anche qualcosa di nuovo un po' da dire quando se ne parla andandoci a studiare un po' di più mi sono reso conto che siamo di nuovo davanti a un personaggio incredibile cioè un un conquistatore che chissà si fosse trovato già a gestire un regno abbastanza grande fin da giovane forse avrebbe veramente potuto ricreare un impero grande quanto tutta l'Asia non lo sappiamo non lo sapremo mai sono quegli uomini che realmente sembrano non avere nessuna nessuna capacità di essere fermati faccio un piccolo paragone io l'annoscò l'annoscò si è passati due o tre anni quando facciamo la finale tra Annibale e Alessandro Magno che vinse il mio candidato Alessandro Magno quando facciamo quella finale io dissi che per me Annibale era il miglior generale umano dell'antichità ma Alessandro Magno sembrava vivere in una nel mito cioè sembrava essere un personaggio di un libro più che un personaggio reale in questo caso io per loro due e ci metto forse anche Khalid Ibn Al-Walid per me sono personaggi che sembrano usciti da un libro che fanno tutto in maniera incredibile in cui alla fine smettono le loro conquiste perché lo scrittore che sta scrivendo quella serie di libri è morto e ha lasciato in una cassaforte l'ultimo libro in cui fa finire le cose perché altrimenti sono praticamente sono qualcosa di inumano in cui non si trova veramente un punto debole tutte le battaglie che conosciamo di loro e ripeto ci metto anche Khalid Ibn Al-Walid e faccio veramente un discorso a tre in questo caso tutte le battaglie che conosciamo di loro sembrano delle allora mi sto un po' perdendo ma voglio solo chiudere con questo concetto quando penso alle grandi battaglie della storia quelle che vengono maggiormente ricordate c'è sempre un particolare che le rende particolari cioè noi non ricordiamo battaglie in cui due eserciti si scontrano e vince quello che era più grosso dopo un gigantesco macello perché ovviamente non è che sia questa grande figura dal punto di vista tattico ma ci sono delle battaglie che rimangono perché la tattica è incredibile la battaglia di Canne tanto per fare un esempio con la mossa di Annibale che riesce a chiudere i romani la battaglia l'abbiamo citata in questa serie quella di Enrico V di Asincur con l'utilizzo di arcieri con arco lungo ecco sono battaglie e la maggior parte dei generali anche i più famosi di battaglie così ne ha una ne ha due basta ecco questi generali sembra che tutte queste tutte le loro battaglie abbiano di questi colpi di genio incredibili cioè sembra di vedere le battaglie di Napoleone sto facendo un salto avanti senza però le sconfitte e questo mi rende veramente molto difficile votare quindi anche se probabilmente all'inizio di questa serie io avrei votato su Bedei e probabilmente è la scelta migliore io francamente per rispetto al fatto di non essere riuscito a trovare per nessuno dei due un vero punto debole non voto e dal mio punto di vista meriterebbero entrambi di essere il migliore di questo periodo meriterebbero tutti e tre quindi io non voto e lascio che quindi sia il tuo voto per su Bedei in caso di pareggio nei voti a decidere chi andrà avanti chi diventerà il vincitore ho fatto uno sporlocco molto lungo guarda guarda io ti dico eh sì io ti dico due cose la prima che dovresti smettere di tirare avanti con sta storia di Alessandro Magno perché va bene nel senso abbiamo capito che per te è un dio però nel senso basta c'è uno la seconda lo sai che mi lasci mi dai cioè è colpa mia poi se vince su Bedei e se si arriva magicamente poi non si arriverà però nel senso perché mi molli così e fai l'ognorri e non voti perché non mi pare allora io ripeto io dovrei allora se vogliamo se vogliamo io ripeto il mio cavallo vincente era su Bedei e io se vuoi te lo dico anche che per me su Bedei è un cavallo vincente ma è un cavallo vincente per una questione chilometrica cioè io se proprio devo trovare una differenza tra i due vado proprio a spanne a dire che l'impero conquistato da Tamerlano è più piccolo di quello conquistato da su Bedei e allora vi voto su Bedei punto però in questa stagione quella del Medioevo in cui fin dall'inizio diciamo attenzione che i generali sono diversi magari ci sono dei generali che sono incredibili ma facevano i capitani di Ventura e non hanno mai conquistato più di un villaggio ma rimangono comandanti incredibili attenzione che ci sono nel Medioevo Europeo comandanti che conquistavano castelli ma poi alla fine non hanno conquistato nulla ecco questo è il senso alla fine non riesco a trovare un difetto allora visto che vuoi che esprima un voto io come ho fatto all'inizio mantengo voto su Bedei anch'io ma ripeto semplicemente per una questione di spanne di territorio conquistato e nulla di più però tanto decidere lo sai non siamo noi ma è chi sta in questo momento dall'altra parte dello schermo che dopo aver visto quest'ultimo video di Clash of Generals magari dopo aver sentito i nostri proloqui può andare sotto il video per decidere chi dei due tra Tamerlano e Subedei votare e farlo con un voto allora come funziona come sempre scrivete prima il nome di chi votate ma siete tutti bravissimi in questo poi lasciate il vostro commento anche se volete sulla serie se volete recuperare qualche altro generale del passato quindi insomma qualcuno che è uscito che sarebbe stato il vostro miglior candidato e tra una settimana esattamente tra una settimana annunceremo chi è il vincitore tra Subedei da una parte e Tamerlano dall'altra noi temiamo sempre che quello che viene fuori dall'Europa non piacqua non piacqua piaccia piace no piacqua non piacqua non piacqua qualcuno adesso mi stanno tirando le orecchie com'è non piacqua non ce lo sai neanche tu non lo sai neanche tu andremo a controllare no io sono dislessico cioè scrivetemelo nei commenti l'insulto se ho sbagliato detto questo detto questo noi pensiamo sempre che possa non piacere me la sono cavata e invece in semifinale di quattro generali di europeo ce n'era uno solo quindi insomma invece in questo modo ci siamo allargati molto che comunque comunque pacciacutec lo sapevo pacciacutec non ce lo dice io lo dico pacciacutec quindi nei commenti scrivete anche che pacciacutec meritava pacciacutec poteva meritare su corvino ma poi francamente avrebbe perso consumo ed è in semifinale ma insomma oppure avrebbe perso contro Khalid al Walido o Tamerlano con Khalid forse lo avrei fatto giocare è una questione solo di accoppiamenti non so ad ogni modo siamo arrivati alla fine io ti ringrazio di aver accompagnato in tutta questa storia e ti dico già che visto che il tuo candidato era Khalid se non vince Tamerlano siamo a due crash di fila che vince il sottoscritto quindi andrò a ricercare l'anello luminoso e farò di nuovo la storia che sosteggio con l'anello luminoso questa volta questa volta non vale perché io ho votato su Bodei quindi se vince ma hai votato dopo il tuo candidato era Khalid era già fuori ma il candidato si sceglie all'inizio è troppo facile arrivare in finale e scegliere candidata vabbè è troppo facile tu l'avevi scelto su Bodei fin dall'inizio scrivendo anche che avrebbe vinto lui quindi nel senso chi lo sa se poi votano gli altri e non sei tu è vero sono io che metto i voti finti io chiudo anche con questo ragazzi non me ne vogliate io devo essere sincero so benissimo chi è che sta mettendo questi voti finti e so anche il motivo per cui viene fatto posso dire una cosa ma divertitevi in un altro modo perché tanto non serve a niente è un gioco è un gioco lasciate che siano gli altri a giocare giulio io ti ringrazio tantissimo di questi di queste chiacchierate è stato un piacere devo dire che questa finale è stata è stata diversa rispetto a quella dell'altra volta che dove eravamo molto più invece qua l'abbiamo buttata più sul ridere ma alla fine ci sta è un gioco l'abbiamo detto ed è un gioco divertente quando si riesce a organizzarlo e farlo bene vediamo quando arriverà la prossima serie se riusciremo mantenere questo spirito sono contento anche che quasi tutti quelli che hanno votato l'hanno presa in questo modo si è discusso ho trovato un sacco di commenti interessantissimi e praticamente nessuna vera discussione arrabbiata che io odio le discussioni arrabbiate poi sotto un gioco quindi votate 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 e tra una settimana saprete chi è il vincitore di Crash of Generals Medioevo la seconda stagione che quindi andrà vicino Alessandro Magno e un giorno si sfideranno chissà per decidere chi sia il miglior generale della storia a presto ciao ciao